quanti anni avevi quando è arrivata l'occasione di diventare direttore della radio nel 94 quindi avevo 36 37 anni tre anni in più di me oggi per dire arriva un'occasione di questo genere fra tre anni mi fai le scarpe era per dire che come mi sento io oggi rispetto a come c'è che ti arriva una responsabilità e un discorso di questo genere come l'hai vissuto quel momento come 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 è stata è una domanda che mi faccio spesso adesso perché evidentemente dovevo essere abbastanza incosciente nel senso che non era una cosa che io avevo minimamente previsto pianificato perché è successa non perché io abbia fatto carriera ma semplicemente perché la persona che c'era prima di me per motivi suoi personali di disaccordi con la proprietà ha deciso di punto in bianco di andarsene di colpo siamo rimasti voi noi è un bel giorno sono venuti da me due persone e mi hanno detto ma lei lo farebbe e quindi